Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. È un dispiacere non essere con voi quest'anno, però credo che il messaggio importante che debba filtrare, come sempre, è promuoviamo la nostra salute, cerchiamo di mantenerla, cerchiamo di difenderla al meglio possibile. Credo che sia assolutamente necessario che tutti quanti accettiamo finalmente la pratica vaccinale, influenza, primo cocco, soprattutto, ma non soltanto. Cerchiamo di utilizzarla come nostro diritto ad avere la vaccinazione erogata, il diritto a poter accedere alla vaccinazione in tutti i punti possibili di contatto con il sistema sanitario. Cerchiamo soprattutto di comprendere come la vaccinazione non sia soltanto un diritto, ma sia anche un dovere. è un dovere che i nonni hanno nei confronti dei propri nipoti, è un dovere che tutti quanti abbiamo nei confronti di coloro che sono fragili, che sono vulnerabili, che possono ammalare e che quindi devono essere protetti anche attraverso la nostra immunità. Credo che sia assolutamente indispensabile che passiamo da queste coperture ridicole, insufficienti, sotto il 50%, a coperture tali che ci possano permettere di affrontare anche questa stagione influenzale con la massima sicurezza e con la massima tranquillità. Credo che sia prezioso poter conoscere da parte vostra come poterci organizzare, quali sono i punti di contatto che vi possono interessare, quali sono i metodi, i mezzi, le possibilità di contatto che il sistema sanitario deve mettere in campo per poter rispondere al vostro bisogno, alla vostra possibilità di accedere a queste risorse importantissime e fondamentali. Sapete che il Ministro è riuscita ad avere finalmente un incremento notevole di risorse economico-finanziarie a favore del piano di vaccinazione. Questa è un'opportunità irripetibile che si manifesterà con il 2017 e con l'uniformità finalmente di tutti i piani di vaccinazione di tutte le regioni con un'unica grande strategia nazionale. Approfittiamone, utilizziamola, cerchiamo di prendere il massimo che il sistema sanitario italiano, un'eccellenza nel mondo, riesce a garantirci. Mi auguro veramente che quest'anno non dovremo contare i numeri di ricoveri inutili, sovrabbondanti, dovuti al fatto che la gente, i nonni, gli anziani, non accedono alla vaccinazione. Mi auguro che quest'anno vedremo azzerate le liste d'attesa negli ospedali, vedremo finalmente i pronto soccorsi sgombri da tutto quello che è patologia evitabile. Con questo augurio, con questa speranza, vi saluto e vi aspetto per la vaccinazione. Grazie. Grazie.